... Quando l'uomo inventò la ruota, non pensava ancora che un giorno avrebbe diventato un computer e connesso il schienzo, ma lo controlla. Eeeh, la ruota si chiamava. Quando l'uomo inventò la carta, non pensò che poteva scusivare per fare coi miei, come Ivan Piondino. Eeeh, la ruota si chiamava. Ecco qua, un bel petto. Eeeh, la ruota si chiamava. E' un lago di asco, e' un lago di asco. E' un po' da forja. E' uno, venga. in tiki parte... E' un po', venga di ovi. Ecco qui. E' un po' da, fra per non. E' un po' da po' da! E' wo tramifza. E' un po' da cuore! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso faccio un finale alla Daria Argento. E rupe Tarros, e rupe Tarros, e rupe Tarros.